L'eroe dei cartoni, il proprio cane o l'esercito di mostriciattoli tanto amati? Con la stampata in 3D saranno i bimbi stessi a creare i giocattoli dei loro sogni. Questo qua è un coniglio stampato in 3D. La particolarità è che abbiamo utilizzato un'app, un'app che si può scaricare gratuitamente dall'Apple Store che si chiama 123D Catch e ha la particolarità che si fanno una serie di fotografie dell'oggetto che ci interessa poi vengono scaricate le fotografie online e in particolare automaticamente viene poi creato l'oggetto in 3D. La cosa è secondo me anche interessante è che si può creare da ex novo un oggetto. Se un bambino ha l'idea, voglio creare un nuovo giocattolo, non so, il mio supereroe preferito lo può disegnare semplicemente con un esempio Tinkercad, quindi è sempre un'app che si scarica, gratuita e molto semplice da utilizzare e si può creare il proprio supereroe e poi stamparlo in 3D. Grazie a tutti!